Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Quest'uomo si chiama Davide Mazzoni, ha 38 anni, ed oltre ad essere operatore ecologico e nello specifico autista del servizio porta a porta di Ancona Ambiente, ha un invidiabile talento, essere un grandissimo tenore. Grazie alla sua incredibile dote per la musica lirica, Davide ha vinto la quinta puntata di Italia's Got Talent, emozionando tutta l'Italia. Secondo i giudici, Davide con l'interpretazione Granada, una celebre canzone in lingua spagnola scritta nel 1932, si è meritato quattro sì, dimostrandosi un concorrente perfetto per Italia's Got Talent, una persona comune con un talento fuori dal comune. Non si piace a tutti, quindi magari tra le persone a cui non piacevo potevano esserci anche uno dei giudici e non avrebbero avuto problemi ad esprimerlo. È stato molto emozionante e molto gratificante colpirli tutti e quattro. La performance straordinaria ha permesso a Davide di guadagnare la finalissima del programma prevista per mercoledì 24 marzo alle ore 21.30 in diretta su TV8 e Sky 1. Penserò a piacere soprattutto come sempre al pubblico che mi ascolta, che è una responsabilità molto importante che sento ad ogni esecuzione e cercherò di non focalizzarmi sul fatto della competizione. Come ti stai preparando? Cosa prevederà la tua prossima esibizione? Sarà una sorpresa e mi hanno detto di mantenere il segreto, ma lo sto preparando molto seriamente e puntigliosamente. Credo che sarà molto gradito. Quando lo trovi il tempo? Lo devo trovare assolutamente e nelle ore in cui non lavoro e in cui la mia compagna mi aiuta molto adesso tenendosi i bambini e lasciandomi molto più spazio rispetto a prima, insomma. Tornerai in TV con la tua divisa? Questa volta cambieremo divisa, sì. Sarà un abito da scena, se così si può dire. La passione per il canto e la musica lirica accompagnano Davide da tantissimo tempo e ora, grazie all'azienda per cui lavora e a tutti i colleghi che gli hanno agevolato la partecipazione alla trasmissione, potrebbe coronare un grandissimo sogno. Lui pensa comunque al suo lavoro e lancia un appello per il rispetto dell'ambiente. Vista la responsabilità che mi è arrivata in questo momento, l'auspicio è che ci stiamo ancora più attenti, differenziate bene, le mascherine buttatele via, non buttatele nell'ambiente, che altrimenti ci salviamo dal covid ma prendiamo tante altre cose brutte.